La pace veste i colori delle religioni. Nel Bandaranaike Memorial International Conference Hall di Colombo i rappresentanti di buddismo, hinduismo, islam e cristianesimo, le quattro principali comunità religiose dello Sri Lanka, hanno lanciato un messaggio di pace e riconciliazione insieme con Papa Francesco. Nonostante un passato scandito dalle violenze della guerra civile, oggi il paese asiatico guarda il futuro con consapevolezza, certo che per il bene della pace non si deve permettere che le religioni vengano abusate per la causa della violenza o della guerra. Il Pontefice ha ricordato inoltre che il dialogo e l'incontro per essere efficace deve fondarsi su una presentazione piena e schietta delle rispettive condizioni. Solo in questo modo infatti si apriranno nuove strade per la mutua stima, cooperazione e amicizia.